Emergenza degrado in via Fiume Montone abbandonato nell'area verde adiacente il parcheggio Calegari, proprio alle spalle della parrocchia di Santa Maria del Torrione. Da tempo, infatti, i residenti si lamentano per la sporcizia che dilaga proprio al di sotto della cinta muraria. Vetri, lattine, residui di banchetti, carte e cartacce. In alcuni casi è emersa qualche siringa. Di giorno, parcheggio e parco rappresentano una zona di passaggio molto frequentata. Dal parcheggio, infatti, gratuito, in meno di dieci minuti si riesce a raggiungere il centro città, la zona dantesca, il battisterio noniano, il museo tamo e il duomo. Facile intuire come il luogo sia utilizzato per la sosta anche da numerosi visitatori della città che puntualmente si trovano ad imbattersi nell'incuria e nella sporcizia. Di notte, poi, sembra andare peggio. Diversi residenti, infatti, si sono spesso lamentati della presenza di spacciatori, i quali danno appuntamento ai propri clienti per la compra vendita di sostanze stupefacenti o per il diretto consumo di droga. Dall'area verde, infatti, percorrendo le scale, si raggiunge il passaggio pedonale sopra le mura che rappresenta un ottimo nascondiglio per il consumo indisturbato. Nei mesi lontani la bella stagione, poi, frequente il problema dell'erba alta, scarsamente tagliata. Il motivo del disinteresse nei confronti dell'area è molto semplice. Si tratta di una zona grigia dove non è chiaro, dove inizino e finiscano, gli obblighi dell'amministrazione comunale e quelli dei privati. Canto all'area verde, sorge un complesso residenziale di recente edificazione, dove ha trovato ospitalità anche l'ufficio postale. Secondo alcune richieste di spiegazione arrivate da parte delle forze di opposizione, sembrerebbe che l'area sia al centro di una sorta di gioco al dello scaricabarile e a farne le spese sono i residenti e tutti coloro che abitualmente lasciano l'auto nel parcheggio.